Ciao a tutti, benvenuti alla segna stampa di scazzo modellato come potete vedere nell'immagine sul mio computer oggi vi parlo del processo di Johnny Depp e Amber Heard o Giovanni Profondo e Ambra Sentita mi piace chiamarli in italiano, mi fa ridere questa cosa perché io lo sto seguendo il processo in America, sto guardando anche qualche diretta ogni tanto proprio del momento delle testimonianze, sono venute fuori un po' di storie che trovo quasi divertenti nella loro assurdità ma che poi aprono comunque anche un attimino a un ragionamento che secondo me va fatto a margine del processo perché comunque ha avuto un impatto molto importante su vari aspetti che andremo un pochino ad analizzare parto prima dalle storie perché ci sono un paio di storielle che veramente vale la pena di raccontarvi la prima è di loro che stanno litigando, come vedete qui già si vede Johnny Depp che sta facendo così perché è proprio il momento in cui lui racconta di lei che gli ha mollato un cazzottone ora il racconto è 100% veritiero perché poi lui ha raccontato i dettagli di quello che era successo durante questa litigata dopo che si è sentito anche un audio fra loro due quindi si capisce benissimo che quello che dice lui è vero perché è comprovato dalla registrazione audio e già questo anzi fa capire quanto fosse veramente malata o tossica come si usa dire ultimamente una relazione in cui tutte e due perché poi c'è anche lei delle volte che registrava lui sentivano il bisogno per tutelarsi in qualche modo di registrare la conversazione che stavano avendo con il loro partner cioè io non so voi ma io in 13 anni di storia con me e moglie non ho mai sentito il bisogno di registrare quello che ci stavamo dicendo però magari sono strano io, non lo so comunque praticamente a un certo punto lui racconta di come loro che erano a casa ovviamente da bravi attori impaccati di soldi stavano in una villa con sei camere e tre bagni e loro stavano avendo questa litigata molto forte e siccome lei litigando diventava manesca, aggressiva al punto di avere uno scontro fisico lui per evitare quando vedeva che i Tony salivano troppo cambiava camera e si chiudeva in quella camera per dire guarda stacchiamoci un attimo prendiamoci cinque minuti di pausa poi magari cerchiamo di ripartire, di affrontare l'argomento, di sviscerare la cosa qual è il problema? che lei invece questa cosa non gli andava giù anzi nella registrazione che si sentirà poi c'è lei che gli dice che lui è un vigliacco gli dice no tu sei un vigliacco che scappi da una camera all'altra e lui dice no ma io non è che scappo io cerco solamente di abbassare un attimo i Tony separandoci per qualche minuto e già la cosa a me faceva ridere mi sembrava una roba tipo comiche tipo i ridolini cioè di lui che scappa da una camera all'altra di lei che va dietro a bussare a cercare di dargli contro infatti cosa succedeva è che lui andava in una camera poi arrivava lei e iniziava a bussare a spingere, a dare colpi alla porta così forte che lui impavorito che o lei sfasciasse la porta o che magari lei si facesse male alla fine apriva e quindi ricominciavano a litigare dopodiché i Tony si alzavano di nuovo lui si chiudeva nel bagno e a un certo punto racconta proprio di come lui si chiude nel bagno lei arriva e inizia a urlare poi gli bussa la porta poi dai calci alla porta a un certo punto lui cosa fa? apre però l'apre non so 25 centimetri una cosa tale che gli permetteva di parlare guardandosi in faccia ma mantenendo comunque un certo distacco fisico per evitare appunto che si arrivasse a uno scontro proprio fisico alla violenza che evidentemente le era portata a questa cosa quindi hai lui che sta così e tiene la porta lei dall'altra parte che spinge e intanto litigano ad un certo punto quando lei di nuovo sta diventando troppo aggressivo lui prende per reazione e dice no no basta basta dobbiamo calmarci e fa per chiudere la porta di nuovo spingendo dall'altro lato cosa succede? che lei avendo il piede che teneva sotto la porta praticamente ad un certo punto ha fatto uno scatto dicendo ai no come se il piede fosse finito sotto la porta lui preoccupato cosa fa? ricordiamoci lui è lì che tiene la porta si abbassa per guardare il piede di lei che è al di là della porta giusto? quindi lui si abbassa quasi in ginocchio per guardare il piede di lei che si era tirata un attimo indietro coglie l'occasione di lui che ha mollato la pressione della porta perché è lì che sta guardando il piede e con tutta la forza dà un calcione alla porta per spalancarla ma ovviamente lui è lì a ridosso della porta cosa fa? la porta gli sbatte in faccia e poi infatti fra le prove c'è anche il livido verticale della porta che aveva sbattuto sullo zigomo sulla faccia di Johnny Depp a quel punto lui si alza arrabbiato perché è arrivata appena una portata in faccia e gli fa ma che cazzo fai? e lei giustamente non è che dice no scusa mi sono lasciata prendere un attimo dalla foga eccetera ma gli molla un destro in faccia e questa qui che vedete è proprio il momento in cui lui mima il fatto che lei gli ha mollato un pugno in faccia dopo dopo che già comunque gli aveva dato un calcio alla porta e la porta era finita addosso a lui nella registrazione come dicevo che succede dopo a tutto questo evento lei addirittura gli dice sì allora io non ti ho dato un pugno io ti ho colpito che già ci sarebbe da capire la differenza e comunque non ti sei fatto niente quindi va bene così quindi diciamo che lei in quanto donna si è già giustificata perché essendo più in teoria più debole dice io ti posso prendere a cazzotti tanto non ti faccio danni permanenti e va bene questo è il suo ragionamento ok non solo c'è un altro racconto di lui che a un certo punto successivamente si stanca gli dice guarda non possiamo andare avanti così io non ce la faccio più la accompagna a letto la fa sedere le mette le mani sulle spalle e dice guarda con tutta la calma del mondo sta storia non puoi andare avanti io non ce la faccio più sono fisicamente e mentalmente estremato stai qui nel letto non mi seguire io mi sono già preparato un paio di cose me ne vado e basta al massimo ne riparliamo al telefono ma io ho bisogno di staccare e di andare via me ne vado ok lo dico con tutta la calma non voglio più litigare lui si alza fa qualche metro lei gli va dietro appena lui si gira gli dice ma perché continui a urlare cosa vuoi di più di cosa hai bisogno e lei prende e gli molla un altro destro in faccia e lui di nuovo con molta calma e la maturità di un uomo anche adulto che stava comunque con una donna molto più giovane di lui invece che reagire la riaccompagna di nuovo in camera la mette di nuovo a sedere sul letto e dice guarda stai calma qui ti sei sfogata mi hai dato un pugno in faccia quello che volevi sei a posto adesso però io vado non solo c'è anche poi la testimonianza della assistente privata che ha lavorato per tre anni per Ambra Sentita Amber Heard e questa persona interrogata sia dall'accusa che dalla difesa ha confermato quelli che erano poi venuti fuori tutti dai vari racconti di Johnny Depp ovvero che dei due era sempre lei che faceva escalare diciamo la discussione in qualcosa di fisico prendeva a calcio gli oggetti lanciava oggetti e via dicendo lui non ha mai distrutto niente non ha mai lanciato niente non le ha mai messo le mani addosso quanto meno per la testimonianza di questa persona che comunque essendo l'assistente personale è stata per tre anni tutti i giorni a stretto contatto con la coppia e di litigate a quanto pare ne ha viste parecchie ora la riflessione finale qual è? al di là del gossip in sé che magari vi interessa poco io di solito parlo di politica quindi immagino che sia quello che interessa agli ascoltatori tanto quanto è quello che interessa a me il gossip in sé mi tange veramente poco però c'è un discorso che va al di là di quello è un discorso culturale perché Johnny Depp è un attore quanti film avete visto di Johnny Depp nuovi negli ultimi anni? Zero e doppio zero perché? perché a Hollywood l'hanno scaricato perché lui è marchiato da questa cosa di essere l'uomo che picchiava la donna di 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 là di sopra di sotto di su e di giù cosa che non era vera lui la Disney aveva in progetto di fare altri film sui pirati dei caraibi sempre con Johnny Depp che fa il capitano Jack Sparrow li avete visti? no lui faceva anche l'attore nella nuova saga diciamo sempre ambientata nel mondo di Harry Potter che si chiama Bestie Fantastiche dove trovarla? se guardate i primi film il primo e credo anche il secondo io ho guardato solo il primo perché l'ho trovato abbastanza noioso c'è lui che fa il cattivo ma adesso c'è il terzo capitolo della saga al cinema ed è stato sostituito da un altro cioè il personaggio c'è lui no perché c'è un altro attore che interpreta quel personaggio perché proprio a causa di tutto quello che è successo nel processo di lei che accusava lui di averlo usato a violenza ma la realtà poi è venuta fuori e qual è il problema? il problema è che c'era tutto il Me Too movement tutto un movimento culturale che va al di là non solo del Me Too ovvero delle donne attrici che si lamentavano degli abusi subiti dai produttori cinematografici che approfittavano dalla loro posizione per avere favore sessuali cosa assolutamente riprovevole sia chiaro ma il problema di base del Me Too e di tutti gli altri movimenti civili che sono venuti dopo anche i Black Lives Matter stessi è che partono sempre da un presupposto ovvero che se di mezzo c'è un uomo bianco accusato di essere colpevole di qualcosa è quasi sicuro che sia vero anzi è sicuro che sia vero feci vedere anche fra l'altro una cosa concetti che sono arrivati anche in Italia sono stati sposati completamente dalla nostra cultura progressista dalle televisioni io feci un video probabilmente un anno fa a maggio sarà stato maggio adesso non ho guardato la data ma se andate indietro lo trovate c'era Michela Murgia e già ho detto tutto ospite dalla Gruber a otto e mezzo bene la Murgia diceva che quando una donna denuncia un uomo non deve produrre prove cioè tu devi prendere in automatico per vero quello che dice lei così c'è una donna fra un uomo e una donna la donna ha sempre ragione è una roba allucinante è una roba da pazzi furiosi questi processi qua sono figli di quella mentalità sono figli di una mentalità in cui se tu vedi un bianco e un nero che litigano in automatico ti fanno pensare ti raccontano una storia che deve essere per forza che il bianco odia il nero perché è razzista non è che magari noi uomini o il genere umano in generale per lo più è fatto di testa di minchia che non si sopportano e quindi litigano no ci deve essere di mezzo al razzismo ci deve essere la vittima che è sempre da una parte e l'aggressore che è sempre dall'altra il discorso alla radice è sempre quello e questo processo è importante perché per l'ennesima volta come è successo per la mega truffa di Jussie Smollett che si è venuto fuori dicendo che era stato aggredito da due elettori di Trump che l'hanno menato durante la notte perché era nero e gay quando in realtà erano due neri che lui stesso aveva pagato per farsi menare e poi farsi pubblicità e poi attaccare il partito repubblicano ma il discorso alla base è sempre quello è la mentalità per cui la radice di tutti i mali è l'uomo eterosessuale bianco in quel caso il processo è già finito se tu lasciassi questa gente andare avanti con le loro idee i processi non andrebbero neanche fatti se da una parte c'è una donna o un nero o un uomo sessuale e dall'altra parte c'è un uomo eterosessuale bianco non serve neanche farlo il processo per loro e basta è già finita sei già che il colpevole sei già che il nocente a posto avanti il prossimo è ora di finirla con questa roba le persone sane di mente che non è sempre così ci arrivavano dall'inizio che fra un uomo e una donna criticano probabilmente magari sì potrebbe essere capita spesso lo sappiamo che l'uomo essendo fisicamente più forte se ne approfitta e magari arriva alle mani ma tra il capita spesso e dare per scontato che sia sempre così c'è un abisso di mezzo le persone normali c'erano arrivate quelli invece che vivono di fantasie strane ancora non c'erano arrivati forse magari adesso con certi processi così tanto famosi quindi è bene che se ne parli iniziano a farci una ragionatina non ne sono così sicuro spero di avervi dato qualche informazione inutile qualche spunto di riflessione mi dispiace per Johnny Depp che ha dovuto vivere anni e anni con una che che è una psicopatica perché una che ti fa la cacca nel letto che prende a calci le porte e robe del genere è una che veramente ha dei grossi problemi e se li dovrebbe risolvere per i fatti suoi e non scaricarli sugli altri se vi è piaciuto il video commentate fatemi sapere come la pensate tanto lo sapete io li leggo tutti e spesso e volentieri rispondo anche ai commenti fatelo girare per far girare un po' di informazione ci vediamo al prossimo video state informate ciao